Alberto, sei stato trasferito. Trasferito? E dove? In un posto caldo, ma non troppo. Ma è lontano? Lontano dalla mia famiglia? No, non così lontano, ma neanche vicinissimo. E la lingua? Non dirmi che parlano il dialetto. Ah, non accendo un po' diverso, ma parlano un italiano normale. Ma è pericoloso, ci sono furti, rapine, tagliano la gola. Ogni tanto c'è qualche furtarello, ma niente di che. Sì, ho capito, ma dov'è questo posto? Dove mi mandate? Al nord, al sud? Al grosseto.